Una, due, tre, quattro, cinque, regole per imparare a guardare la televisione! Non tirare le ciabatte! Non coprire la televisione! Non tirare i pugni in tv perché escono gli alieni! Non tenere il volume al massimo! Non tenere il volume al minimo! Non tenere il volume al massimo! Non tenere il volume al massimo! Non tenere il volume al massimo!